Un terribile dramma familiare ha colpito Gary Hallewall. Suo fratello Max, morto ieri a 54 anni, era ricoverato da una settimana in terapia intensiva in conseguenza di un malore. L'ex Spice Girl, straziata e devastata dal dolore, ha fatto sapere alla stampa inglese una fonte a lei vicina che ha aggiunto «In questo momento si stanno radunando tutti insieme in famiglia. Lei è sconvolta, lo amava teneramente». Grazie per la visione!